salve bentornati al nuovo video di ninja classic allora oggi è il gran giorno che stiamo aspettando è finito l'evento gemrush quindi dovrei aver preso finalmente la tartarughina adesso andiamo a vedere exorcism ranking cos'è damage rank va beh rebel questo è rebel ok treasure box growth fund e top tournament prendiamo i nostri 4000 gold exorcism ranking allora abbiamo top 10 quindi abbiamo preso level 3 culture pack che sarebbe leap runestone 300 e super potency pill 60 poi abbiamo preso il gem ranking pack 3 ci da un po di roba e finalmente il pet quindi andiamo fino dove è il pet dove lo metto qua il pet dovrebbe eccolo sì allora apriamo intanto culture pack poi apriamo il gem ranking aspetta che ci da precisamente quindi talismani sono 50 colorful soul 30 fairy 30 colorful spar porcate sul refining pill è la tartaruga ok ora andiamo su spiritual beast e toglia aspetta metto intanto il massimo del team che ho così vediamo bene quanto ci da shirama poi mettiamo il set togliendolo da naruto ok ora guild doniamo che si mi dà fastidio che brilla prendiamo le cose qui i frutti ok allora il pet si trova qui eccolo quindi noi togliamo sakura fairy che era che è che ci dava 177.000 la mettiamo come supporto quindi solo 45 e mettiamo letter tortoise attenzione siamo a un milione e 500 facciamo vediamo quanto ci da 628.000 buono buono ora c'è anche un'altra cosa da fare mettiamo la tartaruga qui e facciamo rise now e facciamo rise now e facciamo speed up claim claim e la facciamo alle expiamo vediamo quanto ci da quando ex quando quando expa di un livello claim proviamo a fare così non conviene non conviene non conviene abbastanza inutile far fare così quante allora claim aumentiamola di un livello eh ci da tutti 25.000 e hp 300.000 a livello massimo fa così da quasi il doppio tipo 45.000 e e 500 e 500 tipo accelerate claim raise accelerate claim raise quanto è l'ip run oh l'ip hole vediamo mi sa che mi sa che posso fa così e now said facciamo così vai cosa le ho allora è stronzo allora è stronzo allora è stronzo non tutti solo solo vabbè non so come funziona evidentemente qua si sta così per livellare accelerate oh da 7.000 ogni volta che livella buono quant'è l'uno me le dici quando ne ho 172 non riuscirò a fare un altro livello però intanto usiamole accelerate accelerate grazie 7.000 è tanto 280 a tutto e 3.000 hp ogni livello ora se non sbaglio con la tartaruga così noi possiamo andare a fare aspetta che la metto ce l'ho si vede no vedi c'ho la fairy eh spiritual beast follow ok eccola ora no non c'è nessuno insieme a me adesso allora ci abbiamo due milioni madonna quasi tre milioni di ok ancient treasure facciamoci un attimo un paio di missioni ah io ho le potenzi pil qui da dare a jackassins sono quasi al 100 finalmente 99 cent quasi appena arrivo al 100 con jackassin va al passo 8 neri e cercherò di portare al potenzi 100 anche toneri allora in questo set di eventi c'è il persian merchant e se non sbaglio hanno rilasciato infatti eccola la nuova eh kaguya che però io voglio che io voglio però non potrò prenderla adesso eh vi faccio vedere le skill ovviamente sarà abbaffata quindi ovviamente io questi video li faccio sempre di mattina quindi panico sarà abbaffata quindi non ci saranno ma che faccio è bloccato schifo quindi non farà quello che fa adesso farà sarà molto più forte però io adesso prima di tutto ho bisogno di un di un vanguard e quindi dovrò prendere rushomon rochimaru e allora kaguya che in questo caso si chiama the rabbit goddess non so perché l'hanno chiamata così ma vabbè abbiamo growth rate è molto alto come potete vedere 8 7 7 9 divine tree reincarnation fa increase agility force 30% speed 20% damage e 15% avoid injury rate quando il ninja è nella formazione diminuisce l'attacco del 20% ai nemici e aumenta la SDF strategic defense del 30% ogni punto ogni 10% di di hp che non ha tipo danneggiata aumenta del 3% la avoid injury immune allo stun super dodge e pointing attack che penso sia il dot che fa ah non ce neanche penso sia il dot che fa inata io invece voglio lascio monoro chimaro che è forte non ve lo metto a legge lascio un attimo così voi mettete pausa e leggetevelo è lungo non c'è voglia a leggerlo però comunque adesso non li ho quindi devo aspettare vediamo quanto dura fino al 30 alle 23.59 il 30 alle 23.59 vuol dire che i prossimi la prossima prossima rotazione sarà domenica quindi ho tempo fino a sabato e come questi sbadigli ho tempo fino a sabato per prendere Orochimaru quindi ho mercoledì giovedì venerdì e sabato di per 4 sono 4 ancora 16.000 gold da prendere con il growth fund quindi 16.000 gold sarebbero 53.000 gold quindi io sabato cercherò di prendere Orochimaru cercando di pagarlo meno di 65.000 e basta che altro c'è ora data che abbiamo tutti questi andiamo a vedere infatti anche se non sbaglio anche Chiribu è diventato più forte poi abbiamo ah allora prendiamo Kaguya robe andiamo a provare il pet adesso noi dovremmo essere tutti un po' più forti se non sbaglio 462 623 380 313 350 questo perché sono ninja questi tre sono ninja di merda se io avessi Orochimaru questo invece di 300 sarebbe 800 minimo quindi insomma si è capito quasi un milione di HP a Shirama e fa cacare figuriamoci un ninja forte tipo Orochimaru questi toneri uguali di HP comunque toneri ma c'è la super speed 300.000 di speed che stiamo a fa' ti apprende in giro HP 881 500 700 384 buono buono allora vediamo il physical attack strategic attack 226.000 nice ok ora proviamo allora il mio litmatch togliamocelo poi facciamo anche topkage ce li togliamo ok ora Mount by Boku dovevamo continuare a fare il fail land ovviamente lo distruggiamo adesso vediamo un attimo non è tanto il danno è un po' tutto questi mi sa prima mi shottavano a Shirama lo shottavano vediamo Yagura quanto leva non tanto ma è il dot che importa è ok battuto è completato abbiamo preso 125 ferie ora proviamo earth fail land se possiamo andare avanti ok danzo morto toneri con 300.000 di speed non so dove dove è il problema lo spacchiamo e basta si è velocizzato si è velocizzato ah x round li hai preso pure che palle tutti quei controattacchi arrivederci danzo oh donna quanti attacchi sta facendo tonè è impazzito vabbè non credo di battere zezzo infatti non lo batto però se io faccio vado qui genjutsu vado su support wings e gli do tutte le ferie dovrebbero expare di un po' eh 6.000 ronzo ok che mi ha dato che ho sbloccato complice fires oh grazie altre ferie altre ferie 3.000 al posto devo continuare a mettere toneri purtroppo con boost su monoboco perché mi serve cioè è lui che mi fa vincere i match alla fine alla fine retrieve che che non ho fatto ah questo ninja crusade forbidden jutsu forbidden jutsu adesso dovrei essere in grado di prendere qualche pillola in più toby esplosa rochimaru esploso ok girobo esploso buono buono tagliuglia esplosa tagliuglia madonna sono scarsi questi ma mai è poco di monocisi 2 poi panico sai con si sai con no sai che no sai che non fa lo stronzo riproviamo che non è detto che la prima volta è quella giusta ma non è anche la seconda quindi si presume facciano un male cane mi tira i portali tira le porte ah ok non gli leva niente ecco dov'è il problema si fa andare avanti a dot qua eh vabbè si fa andare avanti a dot e tra l'altro c'ero quasi eh perché mo perché gli auguro fa schifo no poi attaccano guarda questi non si battono per un bel po' beh comunque 40 ce ne abbiamo diciamo così finalmente possiamo fare ah 85 1 2 3 qua 5 e poi jade 6 niente e questi ci abbiamo 145 a posto ora 6 path andiamo a fare il matto qua ah ok ok sicuro sei sicuro killer b quando ti levo ah a mo da mo in poi il gioco è diventato se non fai dot hai perso e poi attaccano tutti che fastidio 5 ok scusa mamma mia oh killer b beh dai ma che è che è 1 1 1 2 quanto gli levo col dot tra un po' lo vedo e gli c'hai tipo 2 4 6 c'hai tipo un milione e qualcosa di hp da togliergli col in altri modi cioè quando prendo roshimaru ci riproviamo ero un po' preoccupato ma penso di prenderlo comunque roshimaru ok samsara l'ultima cosa da vedere è come mi comporto sul sull'elite match che però ci sarà alle 7 quindi per ora per ora niente aspettiamo qua stavo dicendo sono preoccupato per roshimaru perché eh ho i soldi contati purtroppo eh non ho fa non faccio in tempo a riprendere eh i 60.000 gold che mi mancano da prendere ancora se non avrei 97.000 chi se ne frega invece no purtroppo è successo così ho speso i soldi per prendere la la tartaruga e spero comunque che con 53.000 gold ce la faccio a prenderlo che altrimenti ho sprecato tanti questo a 40.000 l'ha preso vorrei refresciare tantissimo ma non posso perché mi serve ogni ogni pelo di gold mi serve volendo se proprio non ce la faccio posso nello stesso giorno utilizzare uno di questi recharge rebate anche se vorrei evitare però se mi va male non posso farci devo farlo per forza se no ho sprecato tutto senza motivo ok abbiamo quasi il 9 code ci mancano due livelli il 9 e il 10 purtroppo dovremmo avere qui esatto ok quasi 43 manca altro non lo so non lo so se manca qualcos'altro ho fatto quello che volevo fare abbastanza soddisfacente soprattutto il Jutsu Lab anche un po' di ferie abbiamo preso cos'altro ci hanno dato che non mi ricordo questi sono 200 coupon e li prendiamo subito ci hanno dato vedete quelle cose là 15 Colorful Soul poi qui c'ho tutte queste materie di tutti questi materiali messi da parte quando faccio il 110 ci manca poco che sblocco i nuovi i frutti sblocco i nuovi set quelli 110 rossi e li cambierò e metterò i miei di tutti quanti i loro set tipo 1 2 3 4 4 4 qua niente 1 1 e 2 1 e 2 1 2 3 4 e 5 addirittura questo fa schifo che non ha niente ha un kunai cioè come set fa schifo quindi il prossimo che prenderà un nuovo set è Ashirama no Ashirama comunque è il Vanguard chiunque esso sia perché così fa schifo così fa proprio schifo perché non ha niente di avoid injury infatti c'è solo 37 e Toneri c'è di più 39 e non ha senso c'ha c'ha le cose di Natale che sono fortissime ma gli danno solo danno a proposito gli danno solo danno lo Stower dobbiamo andare a fare binding sand binding aspettiamo 28 secondi comunque il boost di quasi 700.000 è stato veramente figo mi piace sta cosa era 610 619 tipo quindi ho 679 se era 79 abbiamo preso un totale di boost di 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 75.000 di 700.000 volevo dire che da 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 4 da da 1.500.000 a 2.150.000 sono 600 quasi 600 e qualcosa quindi niente si 600 boost di 600 e basta allora ecco abbiamo preso lo Stato andiamo avanti challenge prendiamo altre cose ma failure ma che problemi hanno sti poi che cavolo è sto void non lo sto capì aia o poi io non ho capito ma è il counter quando counterano perché tolgono così tanto non è proprio chiarissimo ah mo ha vinto puttà mo ha vinto erano i capi che devono fastidio e in quel caso era Onoki che dava fastidio dai victory combat is cooling down comunque ragazzi per quanto riguarda il canale mi sembra sia andato bene adesso come periodo si ho caricato i bombi dal giorno è un po' faticoso eh perché devo continuare a registrare io tante volte non è che c'ho voglia registrare c'ho voglia di giocare in pace però è divertente alla fine tenere questo ritmo perché mi mi costringe tra virgolette ovviamente ah a failure ecco perché non avanzavo vediamo se ce la faccio a culo ah non ho più power vabbè 58 eh comunque i video sono aumentati spero vi stiano piacendo gli mmo coreani che ho preso ce ne sono anche altri da farvi vedere ma per ora sono quelli tipo critica poi quando mi stufero di critica porterò eclair a livello 60 ce la faccio poi cambieremo gioco perché non è che uno parte che non posso fare comunque non potrei fare in modo efficace i i dungeon al cap da solo perché non ho idea di come si faccia il party in ogni caso non riuscirei a fare un party con i coreani che non c'è troppa troppa difficoltà per il resto vedrete i vari boss eccetera finchè posso torniamo a ninja frastic e che dovevo fare ninja christmas scroll ne abbiamo e un enchant ne abbiamo cento e io la cento quindici portiamo questo al vendi così non ci pensiamo più cosa perché me le ha tolti tutti non era cento quindici non ne voleva settantasette vabbè ma che cazzo ah perché l'ha tolto perché era a livello massimo avventiamo questo olè a posto wow il prossimo mille e due di attacco domani cioè va bene siamo solo al quindici e questo c'ha madonna quanto danno fa che stattano sti item comunque toneri adesso quanto c'ha precisamente trecentodici mila mila di speed per farvi rendere conto bene adesso andiamo a chiamare verse verse lucia view info lui che è molto più forte di me non proprio molto però è più forte di me soprattutto perché c'ha Ender Sasuke che è forte vi ricordate ninja di prima che vi ho fatto vedere che avevano trecentomila lui c'ha ninja Sasuke ninja perché ninja è comunque uguale ninja Sasuke Ender Sasuke che ha seicentonove mila poi c'ha Rush monoro cimaro che è quasi un milione da solo è ok e ha il set abbastanza buono centodieci poi ha kunai sforge ah niente di particolare pensavo pensavo peggio quindi se io mi faccio tutto il set faccio il set da cento faccio tre tre o no no tre due lui ha fatto cento cento centodici centodieci e poi tutto cento e poi tutto cento come mai perché vuole forse chakra ma non gli conviene fare il contrario questo da di più ha tenuto la void injury è ok così c'ha di più quanto c'ha 69 lui c'ha 69 perché già perché che è che è tutto sto injury rate come si aumentava la void injury mica mi ricordo non ha non ha set c'è 10% ah no è tanto perché rochimaru c'ha tanto di suo c'ha 25% e poi aumenta di 8 gli alleati ok poi c'ha un sacco di difesa bla 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 beh c'ha il 25% in base poi il il 10% se lo prende dal set e poi poi altre cose strane sicuro sicuro vedete lui i pet che ha lui in totale fanno 200.000 cioè lui ha un pochino di più di speed di attacco e di strategic attack ma tipo 6.000 niente di particolare niente che non si possa risolvere con un po' di di exp o di jade parlando di jade lui ha un bel po' di jade assurde cazzo quanto danno quanto danno di stat al 20 110 di nanzi il blu 50.000 buone tra boh facciamo tre giorni che arriva al 110 poi si ride lui è quasi è quasi alla reincarnazione quindi io volevo che vi volevo far vedere toneri toneri c'ha 300 vabbè senza pvp col pvp lui pvp c'ha il 10 code il 10 code busta tantissimo tipo di se il mio allora il mio mi da 500.000 no mi da 650.000 650.000 quindi aspetta vediamo subito lui c'ha 110.000 in più di speed ma niente di particolare a parte le jade speed che c'ha lui livello 9 livello 8 livello 9 io c'ho tutti livello 8 lui c'è alcune livello 9 quindi cambia sono tipo quasi il 20% in più di speed rispetto a me quindi e poi c'ha 81 di potency quindi in ogni caso c'ha 11.000 di speed in più più il 20% tutte quelle cose lì più il 10 code e arriva a 100.000 in più la voce di ingiuri siamo lì più o meno per fortuna questo che cos'è shurajizo io non me lo fa vedere comunque siamo lì il mio obiettivo futuro in gran futuro sarà battere verser diventare primo del server ma per ora non posso non posso perché non ho ninja devo aspettare devo essere paziente cercare di prendere miglior ninja con i gold senza dover ricaricare ogni volta quindi credo che sia tutto per questo video e ci vediamo purtroppo ci vediamo sabato ovviamente voi lo vedrete domenica molto probabilmente ci vediamo sabato con il mio tentativo di prendere lasciamolo ricimaru incrociando le dita e facendoci tutti i segni religiosi che esistono a questo mondo andate a vedere su google segni religiosi vedete a vedere io tutti quelli che ci sono lì li farò per cercare di prendere orochimaru quindi per questo video è tutto ci vediamo al prossimo ciao